Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare Libertà. Oggi parliamo un po' di quei numerini che vediamo spesso ai karaoke. Più due, meno uno, che cosa significano? Bene ragazzi, che cosa vuol dire meno uno, meno due, più uno quando andiamo a fare il karaoke? Ok, intanto c'è da fare una premessa, le note della tastiera, le note in generale sappiamo essere sette, do, re, mi, fa, sol, la, si. In realtà ci sono anche quei tasti neri che sono cinque in un'ottava, ottava è la distanza che va da una nota alla sua stessa nota più in alto, tipo do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si ripete il do oppure re, mi, fa, sol, la, si, do, re, queste sono tutte distanze che si chiamano ottave. Quindi un'ottava contiene dodici note in tutto se consideriamo anche, diciamo, i tasti neri per quanto riguarda il pianoforte o comunque i diesis o bemolle. Quindi avremo do, do, diesis, re, re, diesis, mi, fa, eccetera, eccetera. Ora con l'aiuto del pianoforte vediamo insieme che cosa vuol dire cambiare la tonalità di una canzone perché è di questo che si tratta. Bene ragazzi, eccoci sulla tastiera del pianoforte. Abbiamo, dove ci sono i due tasti neri, qui c'è una nota che è la nota do e quindi avremo do, re, mi, fa, sol, la, si, do, come abbiamo detto, l'ottava. Vediamo che ci sono due tasti neri, poi c'è uno spazio qui in mezzo e altri tre tasti neri all'interno di questa ottava. Che cosa significa? Che per ogni nota la distanza minima si chiama semitono. Quindi dal do a questo tasto che si chiama do diesis la distanza è proprio di un semitono. Il semitono è la distanza più piccola che ci può essere tra due note. Mentre dal do al re la distanza è di un tono che è la somma di due semitoni. Quindi questo è un semitono, questo sarà un altro semitono, dal do al re avremo un tono, dal do al re diesis avremo un tono e mezzo e così via, fino alla distanza in un'ottava, vediamo, partiamo dal do, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici semitoni, comprendono un'ottava intera. Andiamo al dunque. Quando noi dobbiamo suonare una canzone, ogni canzone ha la propria tonalità. Che cosa significa? Che solitamente l'accordo con cui comincia una canzone dà proprio la tonalità a quel brano. Facciamo un esempio molto facile. Per esempio do maggiore. do, mi, sol, forma il do maggiore. E facciamo un giro di do con una canzone famosissima di Tozzi che è Ti amo. E questa fa ti amo, 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 ti fermiamoci un attimo qua. Se io mi accorgo che questa tonalità per la mia vocalità per la voce. È un po' bassa, ad esempio, sentite, per me risulta un po' bassa, dovrò alzarla di qualche semitono in base a quella che è la mia voce. Per esempio la vorrei alzare di un tono. Significa che le accordi che prima erano do maggiore, la minore, re minore e sol maggiore, tutti si sposteranno di un tono. Ve lo dico per conoscenza ma a noi basterà fare più due al karaoke che significa che dal do più uno sarà do diesis, più due sarà re. Quindi la canzone risulterà essere un po' più alta e sarà così. Vedete che già la tonalità si è alzata. Se io voglio ancora alzare un altro tono, ad esempio, dal re vado ancora, altri due semitoni, al mi e quindi avrò sentite come sta aumentando la tonalità e così via. Se io la facessi, ad esempio, partendo dal sol, la tonalità sarebbe sol maggiore, quindi uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, addirittura più sette, verrebbe così. Sentite, è molto più acuta così. Quindi ognuno può scegliere se fare una tonalità più alta o se va bene la tonalità di partenza, diciamo così. Allo stesso modo noi possiamo fare meno uno, meno due, meno tre. Quindi se io parto dal do e ho la voce più bassa di Umberto Tozzi e voglio farla, ad esempio, in la maggiore, quindi andrò uno, due, tre, fino alla nota la, a farla in questa tonalità qua e quindi risulterà più bassa. Ti amo, 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 sentite che la tonalità si è abbassata decisamente. In questo modo voi fate dei tentativi portando a più uno, più due, oppure meno uno, meno due, meno tre la tonalità finché trovate la tonalità più comoda per voi sia nella parte bassa che per quanto riguarda gli acuti. Bene, spero di essere stato esaustivo e vi ricordo che non è importante cantare a una tonalità originale del brano, ma appropriarsi della propria tonalità e cantare bene qualsiasi canzone. Ciao, alla prossima!